Una Valle Olimpica puntata speciale dedicata allo sport, ne parliamo con Marco De Gasperi, sei titoli mondiali di corse in montagna, Bormino Doc. Marco, prima di tutto le Olimpiadi per te, e per Bormio che sfida rappresentano? Credo che siano una grandissima opportunità, non solo per Bormio, ma come spesso si sente per tutta la valle. Sarebbe fantastico che così lo fosse veramente, ce lo spieghiamo tutti, in quanto la Valtellina ha grandissime peculiarità che rappresenta, quindi l'opportunità è immensa. Bormio è sicuramente la perla di questa valle e speriamo che tutto sia da traino per una grande manifestazione. Ci sarà poi un'eredità che lascerà l'Olimpiade e quindi si guarda anche alla dopo Olimpiade al futuro? Assolutamente, l'auspicio è proprio quello che le opere che verranno messe in campo siano sostenibili e ci auguriamo tutti veramente che questo possa avvenire, l'occasione è ghiotta per tutti e la Valtellina deve fare un passo avanti grazie a questa grande opportunità delle Olimpiadi che non è assolutamente banale e non tutti possono freggiarsi di questa possibilità. Ce lo auguriamo davvero, quindi speriamo che non siano solo Olimpiadi di tanti successi, tante medaglie per i nostri campioni, soprattutto quelli della nostra terra, ma anche per opportunità che si creino nel futuro. Ci sarà il debutto dello scialpinismo? Quest'anno è una fantastica notizia, tanti sono i campioni che sono nati qui, ma soprattutto il movimento che tanti anni fa è nato e lo è stato proprio nella nostra valle. E' veramente incredibile come in pochi anni questo sport che è stato così amatoriale fino a tanti anni fa abbia avuto un boom, una crescita esponenziale ed è fantastico averlo ora alle Olimpiadi. Ecco, ricordiamo Marco che la tua carriera ha avuto inizio proprio grazie a un grande sci alpinista. Beh certo, io credo che la fortuna di avere maestri come Adriano Greco, che è stato il maestro non solo mio, quello che mi ha dato l'opportunità di credere in questo sport della corsa, ma soprattutto l'ho fatto anche da grande sci alpinista, perché anche io ero appassionato da piccolino questo movimento dello sci alpinismo e finalmente diciamo avere questa grande opportunità di maestri che hanno portato grandi atleti poi a freggiarsi di medaglie mondiali e lo sono ancora, sono ancora trascinatori, sono ancora persone che portano sui campi i ragazzi e questa passione non finirà mai. Dicevi pochi istanti fa che si deve guardare anche a uno sviluppo del turismo, ad esempio dello sport, legato ai vigneti, qua si parla di wine trail. È indubbio che la Valtellina abbia delle peculiarità di sport legati alla neve e soprattutto all'estivo per quanto riguarda le montagne che offrono la parte alta della nostra valle. La parte della media valle tuttavia non è da sottovalutare secondo me, perché ci sono territori in Italia ma anche all'estero che sono anche meno attraenti rispetto alla nostra media Valtellina e hanno successo grazie a delle peculiarità che possono offrire. La media Valtellina offre questa grandissima ricchezza che sono i vigneti e grazie anche a delle opere che sono state realizzate come la passerella sulle Cassandre recentemente, inaugurata proprio grazie al wine trail, ma anche altre sono opportunità che poi legano un territorio alle grandi caratteristiche. Il vino è una di queste. Abbiamo un grandissimo vino che non è ancora così conosciuto a livello internazionale, ma che ha la caratteristica principale di essere fatto con il vero sudore di chi lo lavora, perché la resa è molto bassa, avvicinare questi vigneti non è facile perché bisogna percorrere dei sentieri, dei muretti a secco che sono stati costruiti, riportando piccoli fazzoletti di terra e costruendo i muretti a secco in un modo impeccabile che qualsiasi opera ingegneristica guarda con rispetto a questa caratteristica. Quindi io credo che tutte queste bellezze che abbiamo possano essere un grande volano poi per il turismo, per un turismo molto sostenibile, uno slow turismo da ripercorrere a piedi con la bici cercando di sfruttare proprio le caratteristiche bellissime di questa valle. Grazie mille Marco per la tua disponibilità e dunque incrociamo le dita in vista del grande evento olimpico. Grazie a voi dell'opportunità e che siano veramente delle grandi olimpiadi per tutti. Alla prossima, non mancate!